Carta stampata, rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola. All'Europa, scontri e razzi, battaglia a Gerusalemme. Passiamo alla Repubblica, migranti, draghi e l'Unione Europea, un patto con la Libia, le proposte di Cartabia per processi più brevi, scontri e razzi, battaglia a Gerusalemme. La stampa di Torino, Fiduolo, svolta a giugno con i vaccini nelle farmacie. Israele brucia, morti e centinaia di feriti nelle battaglie delle case. Libero, sbarchi, un disastro, rimettete Salvini al Viminale. La Cartabia avverte le toghe, riforma della giustizia o niente soli e l'Unione Europea. L'ultimo intellettuale vero, sgarbi l'uomo che sa tutto quasi. Il giornale, prime scosse al sistema, giustizia si cambia, solo due anni al terrorista rosso che uscise l'agente della Digos, mina, immigrazioni su draghi, così non possiamo reggere. Bill Gates e i banali vizietti del maschio qualunque, l'ombra dei festini con Epstein alla Puglia, le dosi avanzati negate alla Lombardia. Passiamo al fatto quotidiano, PD basta accuse incrociate con Conte, Movimento 5 Stelle più verde, la svolta a Cartabia è quella di Berlusconi. Continuiamo con la verità, bomba sanitaria lampedusa per gli italiani di vieti e multe, i clandestini li ammassano così. Al governo battaglia finale per le riaperture, copiamo gli altri per evitare la strage di aziende, la strada sono gli aiuti di Stato. Cade la finzione tra PD e Movimento 5 Stelle, l'alleanza mai davvero cominciata è già finita. Proseguiamo con il tempo, arriva la sorpresa del fisco, attenti ai rimborsi delle tasse, il coprifuoco più corto fa litigare la maggioranza, niente imu se l'appartamento è occupato. Il messaggero, caos vaccini, cambia il piano, Campidoglio, Corsa, Gualtieri Raggi, Bertolaso, Patto del Notaio e ci sono. Hamas, attacco a Israele, razzi su Gerusalemme, Cartabia è la giustizia, processi più veloci o salta, il recovery. Il riformista, Renzi sfida report ma report scappa se questo è giornalismo. Nuovi slogan, omertà, 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 grida il partito dei PM, letta la via poetica al socialismo. Continuiamo con il resto del Carlino, lotta di classe, la macchina di vaccini non decolla, vacanza scrocco Johnson sotto indagine. Proseguiamo allora con altri giornali, abbiamo domani la guerra e le ONG e i favori alla Libia non fermano gli sbarchi, l'occasione da non perdere per abbattere l'evasione. Continuiamo con la notizia, l'ETA ha scoperto le carte, l'accordo con i 5 stelle vale solo se il PD piglia tutto, Italia secco di dosi ma c'è l'intesa sul coprifuoco dalle 23. Passiamo al mattino di Napoli, Napoli sull'orlo del crack, un mese per evitarlo, giustizia all'out-out di Cartabia, vaccini in campagna, ora sta finendo anche AstraZeneca. Continuiamo con il dubbio, riforma, buona fede, addio, torna la prescrizione, Hamas attacca a Gerusalemme, lancio di razzi da Gaza. Continuiamo con il manifesto, la marina per trasferire i migranti a tutta spianata, mentre titola ponte e posti basta marchette, il quotidiano del Sud, PNRR Sud, le prodezze del De Micheli e del Rampollo De Luca, il gioco delle parti del PD affonda il ponte sullo stretto. Continuiamo con Leggo, UK allarme lavoro per gli italiani, senza requisiti si rischia di finire in un centro di detenzione o espulsi. E poi ancora il foglio, la caduta nel grottesco della progettata alleanza senza alternativa tra il PD e i grillini o quel che ne resta è umiliante, non solo per Roma, attacchi cyber degli stati, l'Italia ora risponderà, Gabrielli al foglio. Continuiamo allora con Avvenire, Gerusalemme brucia, scontri tra palestinesi ed esercito israeliano, poi razzi da Gaza e la risposta Hamas 20 morti, scambio di accuse sulle responsabilità, ricatto dalla Libia, altri arrivi e naufragi. Coprifuoco alle 23 con i casi in calo. Continuiamo allora con Metro, troppi sbarchi l'Italia, l'Unione Europea, nuovi accordi, ecco dove il mare è più blu, assegnate le bandiere, 416 le spiagge premiate in Italia, al top Liguria, Campania, Toscana e Puglia, chi entra chi esce e quali sono i migliori approdi. Dagli esteri abbiamo il Corriere del Ticino, quotidiano della Svizzera italiana, alta tensione in Israele, dalla Svizzera di Gaza sono stati lanciati 150 razzi su Gerusalemme, Ticino pronto alla volata finale per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, un passaporto negato che ha fatto discutere, Chernobyl fa di nuovo paura, colonia pipeline paralizzata. Passiamo all'osservatore romano, il giornale quotidiano politico religioso, fratellanza non violenza, dopo i duri scontri a Gerusalemme e la strage di studentesse a Kabul, il Papa lancia un pressante appello di pace, la regina Cieli in piazza San Pietro e poi ancora un commento, la felicità è cosa seria in un videomessaggio alla persona umana al centro, giornali economici. Andiamo con il sole 24 ore, superdividendi da 17 miliardi, ma il tempo affonda la produzione di frutta d'anni per 860 milioni, Fisco Italy rinasce come food park, Maxi oleodotto usa bloccato, tensioni su petrolio e carburanti, Italia oggi autonomi, stop ai contributi, ore 5 stelle vogliono il ponte sullo stretto, a tre campate è pronto in dieci anni. Milano finanza, vaccini Maxi dose di utili, conti d'oro delle multinazionali biotech. Continuiamo con i giornali sportivi, iniziamo con la Gazzetta dello Sport, Juve la paura fa 90 milioni, restasse fuori dalle prime quattro i ricravi crollerebbero, Gravina avvisa, scelgano del Super Lega o campionato, Ronaldo si comprano a Ferrari da 1,6 milioni, il retroscena, Pirlo ultime gare, poi in prima fila Allegri e Zidane, alta tensione Nedvede Paratici, Giro e già sfida tra i big sulla montagna di Tomba, Tennis, Sin, Remusetti, Principini del Foro e ancora Donnarumma, aria di sì, Milan il premio e Gigio, la Champions può dare la scossa al diavolo, dieta Inter dai giocatori, no alla rinuncia degli stipendi e Conte resta solo per vincere. Passiamo al Corriere dello Sport, Zang Inter su Italia, appello nel vuoto, il faccia a faccia con la squadra, Juve nell'incubo, vertice dopo la disfatta con il Milan, avanti con Pirlo, ma si prepara Zidane, Champions a rischio e ultimato un FIGC, lascia la Superlega o via da là, rinviato a fine torneo, il cambio in panchina, Ronaldo in visita alla Ferrari con Elkan e Agnelli, Castori promosso Monza ai playoff, Salerno in alo, Tito vende, Osimè in lancia lo sprint finale. Chiudiamo con tutto sport, Lewandowski che bello segnare più di CR7, SOS e Juve gravinano alla Superlega o fuori dall'Apir, lo resta fino alla fine della stagione, in caso di Europa Liga di 80 milioni. No al taglio di due stipendi, Nicola emergenza difesa, Milan ok Gigio Champions per restare, Salerno festa, lo Tito ora vende, Sinner e Musetti Roma applaude, avanti anche Magher e Travaglia. Ed è tutto per il nostro appuntamento con le notizie della nostra rassegna stampa, che ritorna puntuale anche domani, come al solito, alla stessa ora.